Ciao a tutti amici di SashinMoney, benvenuti e ben ritrovati. Come sempre mi raccomando prima di iniziare vorremmo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Ad oggi secondo me i siti e le app più interessanti che pagano per condividere la nostra connessione internet sono OneAgain e Peer2PeerProfit. Detto questo oggi andiamo a vedere anche questo che è stato proposto da uno di voi all'interno del gruppo Facebook che quindi ringrazio. Il sito in questione si chiama Traff Monetizzer. Anche in questo caso dovremo andare a scaricare un'app per il nostro sistema operativo e quindi anche in questo caso saremo pagati per condividere la nostra connessione internet. Innanzitutto una volta che saremo su questa pagina, io come sempre vi lascerò tutti i link necessari in descrizione al video dovremo iscriverci cliccando sul pulsante SYNAP. Quindi andremo ad inserire una nostra username, una nostra email, una nostra password ripeteremo la password e creeremo il nostro account. Per fare le cose in modo più veloce è possibile usare anche un nostro account Google. Semplicemente per esservi iscritti dal mio reflink riceverete fin da subito in modo completamente gratuito 5 dollari che vi aiuteranno sicuramente ad arrivare prima al prelievo minimo. Una volta iscritti ci arriverà un email di verifica che mi raccomando va verificata per attivare il nostro account quindi una volta dentro la dashboard si presenta in questo modo veramente molto semplice e pulita. Come vi dicevo fin da subito semplicemente per esserci iscritti con il reflink della persona che ci ha invitato io vi lascerò il email in descrizione al video quindi ringrazio anticipatamente chi lo oserà si riceveranno 5 dollari che sicuramente ci aiuteranno ad arrivare prima al prelievo minimo che come potete ben vedere è di 10 dollari. Quindi sempre facendo riferimento al prelievo andiamo nella sezione payments così da vedere come si può prelevare. Qui è confermato che il prelievo minimo è di 10 dollari quindi arrivati a tale cifra basterà cliccare su questa matita in alto, scendere in basso e qui abbiamo tutti i sistemi di pagamento abbiamo Paypal, abbiamo Pioneer che sinceramente non ho mai sentito, abbiamo Bitcoin, WebMoney, Skrill e Pyre quindi arrivati a minimo 10 dollari ci basterà scegliere uno dei sistemi di pagamento indicare il nostro wallet e prelevare. Detto ciò ritorniamo sulla dashboard, come vi dicevo c'è bisogno di scaricare un'applicazione attualmente disponibile per Windows, per Mac OS e per Android, stanno lavorando iOS quindi tramite questa applicazione andremo a condividere la nostra connessione come nei classici casi in cui siamo pagati per questo e come vi dicevo arrivati a prelievo minimo andremo a prelevare attualmente tra tutte le app e tutti i siti che ci pagano per questo motivo come dicevo in apertura video secondo me i migliori restano on a gain e peer to peer profit proviamo anche questa e vediamo come va una volta scaricata ed installata l'app si presenta in questo modo, io la sto usando sul mio Mac per entrare all'interno di quest'app è richiesto un codice che troviamo nel nostro account qui a sinistra basterà copiarlo, incollarlo all'interno dell'app e quindi saremo dentro l'app è molto semplice, molto basilare io ho iniziato ad usarla in questo momento, nel momento in cui sto producendo questo video quindi effettivamente ho ancora guadagnato 0 nel mio bilancio vedo appena i 5$ che mi sono stati dati come bonus di benvenuto appunto per essermi iscritto con un reflink questo è quanto, quindi basterà lasciare in background, aperto in background quest'app che lavorerà in automatico e quindi saremo effettivamente pagati per condividere la nostra connessione detto ciò vediamo come va se i guadagni sono soddisfacenti come potete vedere nella sezione Traffic Sold man mano il mio traffico, il traffico che l'app sta condividendo va man mano a crescere quindi pian piano si vedranno crescere anche i nostri profitti nella sezione Settings è anche possibile indicare di far partire l'app all'accensione del nostro sistema direi che non c'è null'altro da aggiungere quindi in chiusura come sempre vi ringrazio della visualizzazione e mi raccomando vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare mi raccomando un bel like al video fa sempre piacere della forza di andare avanti e sostiene il canale ricordo che potete trovarmi anche nel prima citato gruppo Facebook sul canale Telegram e sulla pagina Library vi invito ad iscrivervi anche in quei canali perché io sono attivo anche lì sono Stefano vi auguro buoni guadagni a tutti ciao e al prossimo appuntamento